la maple custom absolute è realizzata interamente in acero nord americano i fusti di tome timpani presentano sei strati quelli della cassa sette i bordi sono intagliati con un angolo di 45 gradi e leggermente arrotondati i cerchi sono die cast in alluminio da 3 mm di spessore la serie absolute è disponibile con blocchetti absolute o hook lag a sgancio rapido questo esemplare monta i blocchetti absolute le pelli con cui viene fornita sono remo emperor trasparenti come battenti per tom e timpani ambassador trasparenti come risonanti per tom e timpani power stroke 3 trasparente come battente per la cassa e power stroke 3 nera come risonante per la cassa maggiore maggiore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.